C'è voluto qualche giorno in più del previsto, ma alla fine l'inverno è arrivato anche in alto piano con il suo bagaglio di freddo e neve. I primi fiocchi si sono già fatti vivi nei paesi, imbiancando tetti e prati che mostravano macchie di colore decisamente fuori stagione. Il peggio, o il bello dipende dai punti di vista, deve però ancora venire. Da domani è previsto un forte abbassamento delle temperature in altura che potrebbe portare le minime fra mercoledì e giovedì fino a 10 o 15 gradi sotto zero anche ad Asiago, Gallio ed intorni. Le massime faticheranno a salire sopra lo zero per tutta la settimana e probabilmente si rivedrà qualche nevicata nei prossimi giorni. La notizia regala una boccata d'ossigio dal comparto del turismo invernale dell'altopiano alle prese con temperature decisamente sopra la media e con le aree innevate che si stavano restringendo sempre di più. Spazio quindi agli sport invernali ciaspolate e camminate incluse, anche se qualche timore per una viabilità non sempre all'altezza, si fa sentire. Nel frattempo la protezione civile ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate per i fondovalle alpini dalle ore 12 di domani fino alla mezzanotte di mercoledì. Il limite della neve è infatti in abbassamento a quote collinari mentre nelle prossime ore saranno possibili accumuli di qualche centimetro anche nei fondovalle. Per il resto possibile qualche fiocco di neve sulle zone di collina, non escluso che sia misto a pioggia anche su pianura centro-occidentale in occasione di eventuali rovesci.